E' possibile trasformare una vecchia auto in un piccolo ma efficientissimo mostro, con tanto di cromature e disegni speciali sulla carrozzeria, marmitte sovradimensionate ma obbligatoriamente omologate e soprattutto con un allestimento musicale interno da sballo. Questo riesce a fare il tuning, vera e propria passione in America e nei paesi anglosassoni, ma da tempo diffusa anche in Italia. L'Elba Street Racer Tuning Club è il primo e unico tuning club sull'isola d'Elba, formato da circa una ventina di auto-tuning. Nato nell'ottobre 2005 organizza ritrovi tuning sull'isola da tempo e nello scorso fine settimana ha portato a Portoferraio auto ed appassionati provenienti da tutta la Toscana. Siamo nati nell'ottobre 2005 per una passione che è il tuning, sono le macchine lavorate. Questo è il secondo raduno grosso che facciamo con delle macchine che vengono da tutta Italia, più che altro dalla Toscana. Abbiamo diversi club con noi, poi noi facciamo raduni anche fuori. Più che altro è la nostra passione di elaborare le macchine, sempre nei limiti di legge ovviamente. Una passione che ormai ci ha conquistato a tutti e abbiamo allargato la nostra famiglia con tutta Toscana. Speriamo ora di allargarci anche con tutta Italia. L'idea ora è anche di rendere partecipare anche il comune, comunque l'Elba in queste iniziative, associazione club e comuni dell'Isola d'Elba, con tutti i comuni, non solo con Portoferraio.